Architetto pistoiese di fama mondiale, Giovanni Michelucci è stato anche artigiano, artista, designer, urbanista, intellettuale, scrittore, inventore di città e costruttore di comunità. È stato un innovatore e un pioniere con opere come la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze, la chiesa dell'autostrada e il giardino degli incontri nel carcere di Sollicciano. In occasione dell'anno di Pistoia Capitale Italiana della Cultura, la sua città d'origine gli rende omaggio con una grande retrospettiva a ingresso gratuito, ospitata fino al 21 maggio nelle sale affrescate del Palazzo Comunale. La mostra Giovanni Michelucci, la costruzione della città, ripercorre gli aspetti più significativi dell'opera dell'architetto pistoiese attraverso una selezione di disegni, progetti, fotografie, modelli, sculture e filmati d'epoca. È lo stesso Giovanni Michelucci che accompagna il visitatore alla scoperta del suo pensiero, con citazioni e interviste che esprimono i concetti chiave del suo essere architetto per la collettività, ideatore di un'etica progettuale basata sul rispetto del diritto alla vita dell'uomo. Dobbiamo pensare che lui, nativo di Pistoia, nonostante poi dopo negli anni 30 sia andato a Roma, gli anni 20 e 30 si sia spostato verso Roma, lui ha sempre avuto un grande legame col territorio. Basti pensare che la maggior parte delle sue opere sono tutte qua in Toscana. Magari qualche volta anche un po' misconosciuto, però abbiamo, monumentale, la stazione di Firenze, Santa Maria Novella, poi dopo qui a Pistoia la chiesa della cosiddetta Alla Vergine, poi dopo abbiamo anche qui dietro, proprio dietro il Duomo, la sede della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, che è andata a sostituire in realtà quella che era invece il suo edificio precedente, la borsa merci. Quindi diciamo che c'è una vastità di opere, tra cui la più famosa di tutte in assoluto, la chiesa dell'autostrada. È molto particolare la storia della chiesa perché Michelucci stesso ereditò un progetto vecchio, un progetto precedente, non accettato più dagli organi suddetti appunto della chiesa, venne deciso di chiamare proprio Michelucci a rifarne completamente un'altra. Quindi lui ha preso questa eredità, l'ha fatto completamente suo, ha rimasticato, ha rivissuto il progetto interamente, tanto è vero che andava avanti anche in fase di cantiere, quindi non era già definita fondamentalmente questa chiesa. Apprezzata poco dalla gente, ma neanche più di tanto, molto apprezzata invece dalla critica. Ecco, diciamo il contrasto, come al solito, è Nemo, profeta in patria, tutta la critica straniera ha sempre apprezzato, soprattutto questo monumento di Michelucci. Michelucci progettava per le persone, progettava un'architettura aperta, aperta alle persone che non potevano magari vivere gli spazi, che non potevano vivere appunto gli spazi che erano progettati precedentemente. Con la sua mano invece si aprivano. Aprire lo spazio vuol dire renderlo vivibile, renderlo effettivamente uno spazio in cui le persone si possano muovere siano protagoniste della città, quindi una città che ritorna ad essere al centro dell'attenzione e l'uomo protagonista di questo nuovo teatro. Uno spazio invece amatissimo da quelli che lo frequentano è proprio il giardino e la struttura all'interno del carcere di Sollicciano, che è stata una vera e propria rivoluzione per l'epoca. Pensare a uno spazio in cui i detenuti potevano, non dico divertirsi, ma comunque passare dei momenti di grande serenità. È il suo ultimo progetto realizzato postumo dalla Fondazione Michelucci, che ha mantenuto appunto in pieno la mission che lui stesso aveva dato nel 1982, lui è morto nel 90. È un progetto molto importante perché apre il carcere alla città e fa entrare la città dentro il carcere. È un giardino con un padiglione dove i detenuti possono rincontrare i propri familiari che vivono all'esterno appunto del carcere. È uno spazio avulso da quella che vuole essere anche avulso dalla realtà carceraria. Ovvio dal giardino si vedono sempre le porzioni del carcere, si vedono le mura, però sono mascherate, sono mascherate da questi bei pergolati con le varie piante rampicanti, gli spazi sono realizzati anche perché i bambini si possano divertire, quindi vivere una dimensione completamente diversa rispetto a uno spazio, quello del carcere, che ovviamente è carico e denso di significati, soprattutto personali, con esperienze personali anche pesanti, quindi non semplicemente connotati da effetti architettonici, estetici, ma proprio componenti molto gravi. In questo spazio invece si ritorna a rivivere un po' la città, ad essere, non dico liberi, ma comunque ad abbattere quella barriera che è ben presente invece, quella grande cesura che è la barriera che conforma il carcere. La chiesa di Longarone è un altro dei grandi famosi monumenti di Michelucci, purtroppo realizzata in seguito alla tragedia della diga del Vajont, la realizza pensando come un grande teatro, è uno spazio per la collettività, uno spazio in cui la collettività si raduna, si riunisce, quindi abbiamo un doppio teatro, una doppia cavea. La cavea inferiore è quella riservata all'assemblea, alla chiesa, al ritrovo appunto collettivo attorno alla celebrazione sacra, quindi la valorizzazione anche della comunità stessa attraverso il sacro. Poi però cosa succede? Il tetto di questa riunione, di questa assemblea, di questa ecclesia diventa un teatro invece aperto a tutti, è un teatro rivolto sulla vallata, che si affaccia sulla vallata, quindi è un teatro per la collettività, indipendentemente appunto dal credo religioso. L'immagine simbolo della mostra è quest'arca incagliata nella roccia, un disegno che Michelucci realizzò quando e perché? Allora, l'arca nella roccia è simbolicamente la tipica arca biblica che Michelucci, diciamo, rienterpeta come una metafora, un'allegoria, la società che sta incagliandosi, quindi una crisi dei valori della società e che si incaglia nella roccia, quindi sarebbe biblicamente il monte Ararat, nel disegno diventa l'incagliamento dei valori della società. Però si vedono che dall'arca dipartono dei piccoli ponti, da questi ponti fuoriescono le persone, non sono altro che i nuovi cittadini che si adeguano al nuovo status delle cose, il nuovo status quo, e realizzano una nuova città alle pendici di questa montagna, quindi è un punto sì di attracco, ma anche di ripartenza, quindi una ricostruzione della città, che dà quindi il tema anche, il titolo alla mostra, la costruzione della città. Era un disegno realizzato nel 1987 per una cooperativa, cooperativa di Capo di Buona Speranza, e in questa cooperativa si realizzavano serigrafie d'arte, ed era una cooperativa gestita da ex disenuti. Capo di Buona Speranza